La ricetta che vi voglio lasciare oggi, in questa giornata d'autunno un po' frega è un dolce tipico austriaco, austro tedesco, la morbidezza, la sofficità, è buono, seguite la ricetta. Ci sono tutti i segreti. Spincelliamo il latte tiepido, il lievito, aggiungiamo il burro a temperatura ambiente a pezzettini, lo zucchero, un uovo, due pizzichi di sale, e le due farine miscelate. Andiamo a lavorare con il gancio, almeno 10 minuti. Io uso la stessa ciotola perché rimane calda, quindi è molto adatta per fare la lievitazione. Lasciamo lievitare almeno un'ora e mezza se la vostra casa è calda, se no anche due ore. Ecco qua, dopo due ore il pasto è pronto per essere formato. Lo dividerò in due parti. Da queste due parti ora ricavo dei pezzetti di 60 grammi. Io uso una bilancia perché sono molto più precisa e sono tranquilla che le formine saranno tutti uguali. da questi pezzettini faccio delle palline. Incorporiamo bene l'aria dentro la pasta con questo metodo. Ecco, se avete fatto bene le pezzature saranno 12. esatte. Sigilliamo bene bene. Copriamo. Lasciamo a riposo per 10 minuti. A questo punto dovremo prendere le nostre palline, che saranno un po' più morbide e creare dei dischetti. O schiacciando così semplicemente con le dita oppure aiutandovi proprio con i palmi delle mani. e arrotoliamo poi su se stessi. Ecco qua. Una volta arrotolati, creiamo dei serpentelli. partiamo dal centro e allunghiamo verso l'esterno. Allora la lunghezza più o meno dovrebbe essere di 40-50 cm. disegniamo una E e i lembi esterni li attorcigliamo intorno al cerchietto. La cosa importantissima, questo passaggio, sarà di chiudere bene l'attaccatura. Se no poi si aprono in cottura e sarà un disastro. Non è difficile, non li ho fatti molto precisi perché non è una ricetta che faccio spesso, quindi non ho tanta mano. L'ho lasciato riposare altri 30 minuti. Intanto scaldo l'olio a 150 gradi. Se avete un termometro fatelo con quello. E se non lo avete, appena appena il fondo inizia ad essere coperto di piccole bollicine, ecco che l'olio è pronto per friggere il kraffen. Allora, intanto che cuociano, perché devono cuocere proprio lentamente a fuoco dolce, sennò poi rimangono crudi all'interno, vi do alcuni consigli. Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Meglio setacciare la farina se si lavora a mano. Il burro deve essere tagliato a cubettini, sempre. Attenzione poi alla temperatura dell'olio. Come per i nostri bomboloni dovrà aggirarsi intorno ai 150, cioè non più di 160 gradi. Si possono congelare prima dell'ultima lievitazione, come per i bomboloni. Se volete vedere la ricetta dei miei bomboloni e come li congelo, trovate il video un po' più indietro di questo. È un po' più vecchiotto, però lo trovate nella playlist dei dolci. Una volta fritti, vanno passati in zucchero e cannella, a piacere. Ecco qua sono pronti, li facciamo raffreddare e poi voilà! E' delizioso! E' già il terzo del mezzo! In mezzo? Allora... Grazie.